Musica Benvenuti alla Trattoria Spirito Santo, benvenuti in Paradiso. Musica Musica Alessandra, tu quanti anni è che sei qui? Io sono cinque anni. Secondo te qual è il successo e il segreto di questo locale? Io penso che sia prima cosa la qualità, ma la cosa più importante è la signora Pina, che è il pilastro di questo locale. Quanto conta la qualità e quanto conta la signora Pina? Tutte e due allo stesso livello. Il cliente tipo da voi chi è? Noi andiamo dal semplice operaio all'avvocato, c'è un po' di tutto. Un piatto che viene chiesto più degli altri? Allora, come antipasto abbiamo i calamari e i gambri ai vecchi sapori che sono favolosi, poi abbiamo il trionfo di mare al cartoccio che sono gli spaghetti con tutti i frutti di mare, la grigliata missa di pesce e poi quello che non può mancare è il sorbetto mantecato a mano. Ricordiamo anche gli orari di questo locale? Allora, sono dalle mezzogiorno fino alle 15 e dalle 19 e 30 fino a mezzanotte. Giorno di riposo? Lunedì. Oggi si festeggia anche un compleanno, 87 anni, qual è il piatto che le è piaciuto di più? Eh, polipo, il polipo. Lei è un buon gustaio? Beh sì, ho sempre mangiato quando potevo mangiare perché non ho avuto sempre, ho dovuto andare a fare la guerra giù in Grecia con i fratelli greci. All'epoca non si mangiava molto bene immagino. Eh, poveretto, non avevano loro da darcene, mangiavano loro. E come si è trovata? Ho mangiato molto il polipo anch'io con i pomodorini e mi piace, mi piace molto. È una cucina diciamo casalinga, è un po' vecchia maniera però molto raffinata comunque. Cos'è che gli piace di questo locale? Mi piace perché è nel centro vecchio di Torino, perché si mangia bene, i camerieri sono velocissimi e si mangia veramente, veramente. C'è il pesce buono, vero? Assolutamente sì. Sentiamo le giovani generazioni cosa pensano di questo locale. Mi è piaciuto molto mangiare qua, è stato tutto molto buono. Ho mangiato lo sciato di tonno all'aceto balsamico, buonissimo. Tornerai? Sì, penso proprio di sì. Con gli amici magari? Sì, magari. Bene, buon proseguimento. Pina, voi siete uno dei locali più amati del pesce a Torino, quanti anni è che siete qua? Noi dal 76, 75 però dal 76 abbiamo messo la specialità pesce. Una lunga tradizione, qual è il segreto del vostro successo? Ma credo che sia la prima qualità della roba, nel senso che non stiamo a prendere roba, deve essere freschissima. Noi abbiamo gli arrivi tutti i giorni, per cui abbiamo della roba che la gente viene a mangiarla e è stata di mangiare roba buona. La cosa del successo è appunto perché doperiamo la materia prima buona. So che ci sono generazioni di famiglie che vengono da voi, sanno che si trovano bene e c'è anche un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo è vero e è anche quello che ci aiuta ad avere tanta clientela che anche con i posti che abbiamo dobbiamo dire di no che non c'è posto e dalle volte il cliente rimane per sì male. Dice, ma non c'è due posticini? Mi dispiace, siamo pieni, vogliamo fare un altro ruolo. Secondo orario noi andiamo avanti fino a mezzanotte la sera, visto sono arrivati adesso dei clienti alle 11 e noi diamo da mangiare tranquillamente, però noi siamo sempre a disposizione del cliente. Qual è un piatto che lei consiglierebbe a chi non vi conosce? Ma noi abbiamo il trionfo di mare, oppure la linguina all'astice, come l'avete mangiato voi questa sera. Avete visto? Tutta roba fresca, l'astice è freschissima, perché io le prendo tutti i giorni. E per cui ho tutti, dalla carne al pesce, il cliente rimane contentissimo. Un piatto che non l'ha ancora fatto, che vorrebbe fare? Beh, sono dei nuovi piatti che metterò dal prossimo anno. Ovvero? Ma avremo delle cose con le tripoline allo scorfano, avremo delle orecchiette con friarielle e salsiccia, avremo tante cose, del ripieno di ricotte e spinaci, degli agnolotti, di magro, perché abbiamo anche chi non mangia il pesce, magari mangia la carne. Allora faremo poi delle novità, dal prossimo anno avremo i nuovi menù. E la cantina naturalmente all'altezza? Eh sì, questo, non deve mai mancare del vino buono, col cibo buono, che deve fare un buon incontro nella strada. Vini non solo piemontesi, ma di tutta Italia? Abbiamo in tutta Italia, dal Piemonte alla Sardegna, alla Sicilia, alla Puglia anche, e le mie città. E la vostra regione? Esatto, la mia regione è quella, per cui non ci deve mancare il grosso di Taranto e tutto che deve essere sul tavolo. Comunque abbiamo la mano della scena. Pina, Trattoria Spirito Santo, Torino. Un grande luogo di delizie. Un grande luogo di delizie.